Il festival della bicicletta è in versione più intima. Dal 16 al 18 dicembre la Galleria Principe di Napoli ospiterà il Bike Festival Unplugged per fare il punto sull'uso della bici in città e inaugurare la Casa della Bicicletta, progetto vincitore del bando giovani della Presidenza del Consiglio. Innanzitutto abbiamo sfatato questo mito che a Napoli sembrava che fosse impossibile quasi geneticamente andare in bicicletta, non è così. In questi anni è cresciuto un movimento forte di persone, di ciclisti urbani che usano la bici per muoversi nel quotidiano e quindi era naturale che nascesse un luogo, che fosse un hub, che raccogliesse tutti i servizi fondamentali per chi si muove in bicicletta, quindi dalla ciclofficina per ripararla, la partenza di tour, infatti noi siamo in un posto strategico oltre che nella stupenda Galleria Principe a due passi dal Museo Archeologico e con la direzione dell'Archeologico già sono avanzate dei progetti per creare una connessione tra i turisti che vissero nel museo e poi la possibilità di portarli in giro per Napoli in bicicletta. Apertura venerdì 16 alle ore 19 con la musica degli Ars Nova e della Mesca. Molte e varie le iniziative previste, dal mercatino dell'usato per ciclisti alle attività per ragazzi e bambini alla bicicletta a sospesa, progetto di bike sharing sociale. Sabato a mezzogiorno ci sarà la pedalata dei Babbi Natale, mentre domenica 19 a partire dalle 7.30 si terrà la cazzimbocchia una passeggiata in città con biciclette d'epoca. Sono la prima ad usare la bicicletta quando posso e sono la prima ad essere stata sensibilizzata ecco io prima non avevo una cultura di mobilità di questo tipo ed è stato proprio il mio ruolo l'incontro con la rete delle associazioni della città di Napoli e con un grande festival il nostro Napoli Bike Festival. È stato importante come comune di Napoli iniziare a credere in questo progetto anche in modo più strutturale. Questa bellissima rete associativa che poi si è fatta startup, che poi si è fatta impresa racconta che a Napoli non soltanto è importante sognare ma il sogno e trasformare la città attraverso una mobilità diversa, uno stile di vita diverso è un obiettivo strategico messo al centro dall'amministrazione comunale. Anche quello che stiamo presentando qui oggi nasce dall'aggressione efficace, potente, puntuale di fondi strutturali europei e comunitari e se continuiamo con questo ritmo davvero possiamo mettere in campo delle infrastrutture che possono cambiare in modo drastico e bello il bulto della città. Il programma e le informazioni su www.napolibikefestival.it La bicicletta significa far respirare le città, far stare in sicurezza e in buona salute chi utilizza la bici e quindi tutto questo si adatta anche a una trasformazione che sta mettendo in campo Napoli anche da un punto di vista turistico, quindi è evidente che va trasformato il sistema di mobilità su un sistema di mobilità dolce. Grazie per la visione!